Comunque ho una baguette in mano, piccola, forse è un gristino, non è una baguette. Ciao a tutti creeper, io sono Celloffi e oggi siamo qui in questo nuovissimo video su Coral MC con tutti i miei fans. Quest'oggi siete venuti numerosi perché, come al solito, sto registrando sul mio server Discord un video con tutti voi. Vi ricordo, se ancora non l'avete capito, che dovete entrare nel mio server Discord, che sta nel mio sito, così che potete partecipare anche voi a queste cose simpatiche. Detto questo, oggi siamo su Coral MC per provare le texture più brutte e schifose che abbia mai visto, ma più che altro le texture più senza senso, quelle più illogiche, quelle che ti chiedi ma perché? Quindi partiamo subito, togliamo la mia fantastica texture PvP che potete scaricare anche questa dal sito e mettiamo la prima texture, sempre una texture che ho fatto io, che sostituisce tutte le spade del gioco con delle banane. Oh, la mia banana è lunga e forte ragazzi! Questa texture l'avevo fatta un sacco di tempo fa, così a random per un video a random appunto, ma niente, siccome è completamente illogica e priva di senso, la utilizziamo anche per questa partita qui. Poi la prossima cambiamo e la prossima ancora dopo cambieremo di nuovo. Vediamo un po' ragazzi, intanto ci teniamo le banane. Prendiamo la banana di pietra, poi mi prenderei un po' di handzone per bardare della lana. Ok, per il resto non cambia niente, cambiano soltanto le spade che sono delle banane. Eh, no, ci stanno toccando tutti la casa, abbiamo perso! No, c'è il Luke 4316! Muore, Luke Skywalker! Ok, dai, potete sconfiggerlo, su, siete in 13. Ok, io mi prendo questo, perfetto, bardo un po' di più perché vedo che qua ci stanno targettando tantissimo. Lo so che sono famosissimo, chiunque vorrebbe vantarsi di aver ucciso il fortissimo Cerofi, il più abile Bad Wars player di tutto il mondo, però mantenete un po' la situazione, no? Eh, ha visto? Ecco, appunto, niente. Però sono bravissimo, avete visto? Dico la verità, io, eh. Ah, sento delle botte dovunque. No, il mio amico! Il mio amico, resisti! Dark Creeper! Siamo in tambi di Creeper, dobbiamo resistere. Allora, siamo in tre. Stiamo compatti, stiamo compatti. Ok, amici, dobbiamo essere compatti. Allora, buttiamo via sta spada, prendiamo questa. Guarda quanto è gialla questa. Poi mi prendo questo. Ah, ah, oddio! No, no, non ho fatto in tempo a dire niente, ma hanno distrutto. No, il mio ultimo compagno di team è morto in un modo tristissimo. Vabbè, anch'io voglio sempre così, eh, quindi è a posto come cose. Vabbè, ok, prossima partita. Via la banana, mettiamo la seconda texture, quella di SpongeBob. Non ha un minimo di senso, ma è fatta benissimo. Guarda, c'ho Patrick in mano, è carinissimo. Eh, eh, vabbè, ok. Ma non ha senso. Poi tutti i minerali sono spawn... Ah, sono tutti i vari personaggi. Guarda il cielo, il cielo fa schifo. Cioè, le sue hitbox si vedono... Si vede lo skybox come se fosse un enorme cubo, è tremendo. Però ok, va bene. E certe cose fanno davvero schifo, tipo, guarda l'erba. Sembra vomito, vabbè, ok. Abbiamo Patrick. Posso prendere Patrick di pietra, giustamente. Prendiamo un po' di handstone. No, la meladoro è la casetta. Questo è un diamante. Perché il diamante è così? Che tristezza, il diamante. Vabbè, ok. Non riesco a capire niente. Mi manda in confusione sta roba. Tutti i blocchi sono storti. Poi il cielo è terribile. Fa vomitare il cielo. Giuro che mi sembra di star cadendo, tipo. Sapete, no, quando fate i sogni in cui cadete? Ecco, la stessa cosa. Mori! No, i crabbi patti! I crabbi patti ovunque, non ci si capisce nulla. Andiamo, andiamo, andiamo. No, no, no. Mamma mia, ragazzi, vomito. Vomito, mi sembra tutto così storto. Vabbè, ok, ce la possiamo fare. Voglio spaccare un letto. Insieme al mio team. Ma qua ci sono tutti i team del mondo. Guarda, tutti i colori dell'erco-balè. Picchialo. Ma le esplosioni cosa sono? Avete sentito? Sembrava un'atomica. Oddio, che vuoi te? No, no, no. E niente. Stanno arrivando! Arriva! Picchialo! Grazie dell'aiuto, team, eh. Siete tutti molto collaborativi. Ah! No, quello ci ha bombardato. E niente. Ah, adesso cado. Sono vivo. Tutto rotto, però. Sistemate il letto, subito. Perché si stanno facendo esplodere da soli? Ok, vai avanti te. Vai, sacrificati. Che cazzo lo sta facendo? Si sta bloccando da sé. Ma che fa? Non siamo su Fortnite. Guardalo, eh, come si arrampica. Vabbè, ok. Sembra una buona tecnica. Attento, dietro di te. Ti salvo. Ti salverò. Sto morendo. Vabbè, lui ce la farà. No, è caduto. Sono caduti tutti. Ma se i miei compagni di team facessero qualcosa, magari invece faccio tutto io sempre. Picchiate. Ok, arrivate mezz'ora dopo, ma bravi. Poi perché c'è uno che in chat sta continuando a urlare Ah, ah, t'ho chillato. Non sta neanche parlando con me. Però, boh, perché? Basta. A un certo punto fermati. L'abbiamo capito. Ah, quanti! I verdi! Picchiatelo, picchiatelo! Grandi! Come team vinceremo! Ok, ho fatto una kill. Dai, sono soddisfatto. L'ho fatta? Sì, ok, l'ho fatta, dai. Non si è sentito il suono perché sta texture cambia pure tutti i suoni? Ma a quanto pare l'ho fatta. Dai, amici, possiamo vincere. Non seguite me perché non so cosa sto facendo, ma ok. Ma perché quello sta continuando a urlare e ti ho chillato? Poi non ho capito se parla con me o con qualcun altro. In ogni caso il suo team è morto e quindi lo scarso non sono io per ora perché sicuramente perdiamo. Guarda, ecco appunto, ho visto. Eh, ti ho schivato, scarsone! Scarsone! Chi è lo scarsone adesso? Aiuto! Aiuto! Questo mi sarà inseguendo di sicuro. Aiuto! Ne è spawnato un altro! Bravo! Sì, ok, gli hanno fatto esplodere tutto. Sì! Che cavolo! Ma è partita una musica! Ma è partita una musica! Ma era tutta corrotta poi. Va bene, ok, però... In una parola, questa textura è tristissima. Va bene, va bene. Ah no, ma ce l'hanno rotto anche a noi! Allo stesso tempo, però lui è rimasto da solo e noi siamo ancora in tre. Andiamo! Adesso! Nessuna speranza, nessuna pietà! Sì! Che forte che sono! Sono fortissimo, eh! Mamma mia, ragazzi, che roba! Togliamo quella di SpongeBob e andrò a mettere la texture fatta completamente su paint! Ah, che dolore! I miei occhi è tutto così luminoso! Tutto così colorato! Come i teletubbies! Vabbè, ok, non sapete cosa sono i teletubbies se siete troppo giovani. Allora, io mi prendo un'armatura mi prendo una spada mi prendo un po' di handstone perché senza di me nessuno qui barda Dove sono le nuvole, però? Guarda il sole! È tutto così storto anche su questa texture è proprio storto! Vabbè, ti ho chillato... Ah, Scarsone! Basta! Il titolo di questo video sarà Ti ho chillato, Scarsone! Secondo me lui ha tipo un hack o qualche programma strano perché vedete, lui spamma mentre corre lui sta giocando e nel frattempo il chat sta continuando a spammare ti ho chillato, Scarsone! Secondo me c'è un hack che gli fa scrivere in automatico che cavolo è? La voglio anch'io, però! L'hack che ti fa scrivere mentre giochi Ok, vai, Scarsone, vai! Guarda le esplosioni quelle sono state belle Ok, tanto che lui si è ucciso da solo vado di qua Splitta? Tu mi chiedi di splittare io ti chiederei di smetterla Non è colpa mia Secondo me ha attivato qualche programma che gli sta facendo scrivere in automatico Ma che cavolo è? Non ho mai visto una roba del genere è bellissimo Perché ho preso del legno? Non lo so, sono in preda alla follia anche io Quello è esploso Oh no, c'è un tizio lì Picchialo, Scarsone, picchialo! Scarsone ovunque, aiuto Quanti Scarsone? Oh, non è uno Scarsone questo Tiè Oh, è morto L'ho ucciso Sono fortissimo Ma non ti ho killato Scarsone Non ce la faccio Giuro che mi fa troppo ridere sta cosa È come se il computer avesse preso il controllo del suo personaggio del gioco della sua mente No, ci hanno rotto il letto Vabbè, morirò però Morirò ridendo come un matto Tiè Piazza di sta cosa Ok Via Via, mi arrampico Devo pendere il light ground Ok, non so come faccio ad essere ancora vivo Amico, non morire Io ho un cuore Ok, bravo Dobbiamo scappare perché mi serve della vita No Sono morto Che tristezza Ma ti ho killato Scarsone Sono uno Scarsone Ma non è colpa E che cavolo è? Hai messo un virus che ti controlla la mente Non lo so Come non lo sai? Il tuo computer ha preso il controllo su di te No, no, no Ma voglio sapere Sono curioso perché Il tuo computer sta spammando E ti ho killato Scarsone Boh Avrai qualche hack Non lo so Non ho un'idea Sto ridendo un sacco Cavolo Poi vedrai nel video Ti ho killato Scarsone Madonna Basta Stoppalo Ultima texture Ragazzi Togliamo questa E mettiamo una texture Dei meme Ok Questa me l'ha consigliata un fan Proprio Blue Karma Quello che sta spammando Con un bot Che sono Uno Scarsone Questa me l'ha mandata lui E comunque Non si sa perché Stia spammando Dice che lui non ha Che non ha Intelligenza artificiale Nel computer Nel nulla Boh Comunque Ho una baguette in mano Piccola Forse un grissino Non è una baguette Vabbè ok E c'è Dream Ovunque La lana è tutta uguale La lana è fatta tutta Di pecore Guarda Tutta uguale Quindi i colori Non si capiscono Mamma mia E' una baguette in mano Mamma mia Perché le pareti Sono fatte Di dream Andiamo Andiamo Quella baguette Di ferro Oppure il grissino Che cavolo Sarà mai Guardalo come è pericoloso Con quella pecore in mano Cos'è il piccone Che cavolo E' una chiave inglese Oh no C'è uno lì Amico aiutami Siamo soltanto in due Ma ce la possiamo fare Menalo Menalo La baguette Il grissino Il grissino Ma perché Cos'è sto piccone poi E' tipo una chiave inglese I taci Non so che cavolo sia Ci stanno attaccando Tutti i team che esistono Amico E io non vedo i colori Perché vedo soltanto Tesse di pecora Oddio Che cavolo è stato colpirti Ah un tizio là sotto Ah 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 Scappo No Vai via No però mi ha buttato giù L'infame No ci hanno rotto il letto Nel preciso istante Non ci credo Beh ragazzi Direi che per oggi Possiamo concludere qua Vi ringrazio per la visione Vi ricordo ancora una volta Di entrare nel mio gruppo Telegram O Discord Di descrizione Che facciamo video insieme E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti